Chi lavora su YouTube, chi lavora, chi sa spesso su YouTube anche per lavoro, perché no? Non può che non imbattersi, come apre soprattutto la prima pagina, in questo personaggio che è diventato mitico, no? Vedete, addirittura un ragazzino, insomma, non so quanti anni abbia, mi sembra, lo dice pure a un certo punto, nella sua, nella sua, le veloce biografie, insomma, sui vent'anni, qualcosa giù di lì, che complimenti, insomma, un applauso, è diventato il numero uno in Italia su YouTube, cioè praticamente il suo canale, il canale di, parliamo di Favij, eccolo qui, Favij è il canale più visto, è il terzo più visto in assoluto come visualizzazione su YouTube, o il secondo, ma salirà, però, insomma, se la compete con canali come quelli, non so il primo chi è, se ne aspettate, avete un attimo di pazienza, mentre sfogliamo questa, questa, questo che state vedendo, da cui parte questa recensione, che non ho mai fatto su Favij, ma anche approfitto per farla, sfogliando il suo album della Panini, delle figurine Panini, mi sono rimasto colpito, e se andiamo su, su Social Blade, che ci dà le statistiche di, di tutto, diciamo, il YouTube, possiamo dire che lui ha, praticamente è il, il, l'ottocentesimo canale più visto al mondo, pensate, nel mese di, di luglio, negli ultimi 30 giorni ha fatto 42 milioni di visualizzazioni circa, ha 2 milioni di iscritti, e ha 612 milioni di visualizzazioni, in poco più di due anni, diciamo che, dall'8 dicembre, mi ha portato fortuna l'8 dicembre del 2012, in cui ha aperto questo canale, e chi l'avrebbe mai sospettato, che con solo 700 video, questo ragazzino diventasse il numero 1 in Italia, guadagnando anche parecchi soldi, perché no, eh? Ma parecchi, parecchi, perché, insomma, con questi numeri i soldi si fanno, e anche, vedete, gli sponsor, diciamo, anche per altre, come si dice, con un indotto, no? Anche al di fuori di YouTube, perché questo, comunque, sì, è lui, è Favicelli, è YouTube, però, insomma, i soldi vengono dalla Panini, vengono anche dai gadget e tutto, e quant'altro. Ma la cosa che, se aspettate un attimo, vi dico immediatamente, è sapere in Italia la posizione che ha questo ragazzo, e che è, praticamente, uno dei canali più visti in assoluto tra pochi secondi. Ve lo dico, intanto, ecco, figure, figurine della Panini, ma scartiamolo, no? Questo, questo album della Panini, insieme a poi, questo, questo pacchetto di figurine, no? E mi ha colpito talmente tanto questa cosa, che ho pensato, ecco, di approfittare per fare la mia prima, così, parlare per la prima volta di questo ragazzino, proprio sfogliando e parlando del suo album. Eccoci qua, è il secondo, aspettate, no, ancora no, ecco, è il terzo, è il numero tre, con 604 milioni, ma sale in fretta, 612 abbiamo visto, e poi c'è la Warner Music, pensate, se la batte con la Warner Music al secondo posto a 787 milioni, il prezzo potrebbe superarla, e poi c'è Pulcino Pio, TV imbattibile, con meno iscritti, ma con quasi un miliardo di visualizzazioni, pensate, 973 milioni di visualizzazioni. Ma andiamo a sfogliare insieme l'album di figurine di Favij, eccolo qua, eh, eccolo qua, il ragazzino geniale e folle, complimenti, eh, cioè, dopo tutti questi numeri, e, vabbè, voi mi direte, vabbè, ma che cosa fa, che video fa questo ragazzo? Questo ragazzo fa video in cui, praticamente, se non erro, gioca al computer, come fanno tanti, e con lo screenshot, no, con il cattura schermo, mostra e commenta i suoi, le sue performance di gioco. Eccolo qua, la card checklist, oh, questo non è una sponsorizzazione che faccio a lui, né pubblicità, stiamo soltanto sfogliando a livello di cronaca un qualcosa che è un fenomeno mediatico e sociale non indifferente, insomma, una cosa che passerà la storia, il successo di questo ragazzo. Quindi, insomma, ecco, l'ho comprato questo album, mi sembra un paio d'euro, sì, due euro, all'edicola, ero curioso e vorrei scartare pure le figurine, magari le attacchiamo pure, vediamo come sono fatte. Eccolo qua, il mitico Favij, Favij è l'album di figurine, che vuol dire? I'm scared, sono spaventato, F22, che cosa è? Non lo so, queste sono altre figurine, questo è lui che strilla, che giochicchia, e questo è Favij quando era piccolo, credo, o no? Col cagnolino, carina questa qua, interessante. E poi abbiamo anche altre cose, ecco, questa è un po' più dura come figurina, forse questa neanche si attacca. Sì, credo che queste qui non sono delle card, più che altro, credo, eh, non lo so, non è tanto che non gioco con le figurine. Abbiamo, oltre alle figurine, questa collezione comprende anche 50 fantastiche, Favij card, credo che queste siano, ah, ecco, Favij card, la F22, io ho la F22, che si intitola, come si intitola? Facce belle? Oppure ho la, la F30, che dovrebbe essere la, ma aspetta, non ho la patente per guidare la macchina, simpatico pure, eh, non si guida senza patente. Curiosità su di me, molti sanno che esiste Favij, pochi sanno che dietro a lui c'è anche un ragazzo senza la telecamera, senza i videogiochi, senza urles morfie, parecchio timido anche, bla bla bla. Il mio silver button, questa per esempio è la figurina numero 63, e la attacchiamo insieme a voi, eh? Sto rubando il lavoro a Favij, cioè sto facendo vedere dei giochi, paura a mille. Un saluto magari Favij, non so di dove è Favij, non credo sia, mi sembra romano, di Roma. Comunque la 63 dovrebbe essere questa. Ecco, attacchiamo la 63, che emozione attaccare le figurine dopo 40 anni quasi, che non le attacco? Questa è la 112, la 134, e queste invece sono le Favij car. Oh, carina anche la 5, l'attacchiamo subito. Eccolo qua, attacchiamo Favij, la numero 5, proprio curiosità su di me, fa vedere forse quando ero piccolo, qui c'era avuto 8 anni, 9 anni, 10, e qui quando aveva 4 anni, così qua. Eccolo qua, curiosità su di me, momenti epici, vedete? Momenti epici, poi abbiamo la sezione, paura a mille, ne abbiamo attaccata una, poi ne abbiamo un'altra che era 134. Ah, poi al centro c'è un poster, ecco, questo è il poster, come sempre con le figurine che si attaccano, della Panini, che è leader, no? Della, delle figurine, in Italia, soprattutto per il calcio. Oh, questa ecco, scatti inediti, questa è la 134, e quindi, insomma, perché ha avuto successo, no? Analizziamo il suo fenomeno, perché? inserutto perché va proprio in un settore, quello del gaming, del gaming, no? Del videogioco online, che è tra i più fecondi, e poi quello di fare anche i video, di questo tipo, e farli vedere, con tanti ragazzini che li vedono, ha parecchio successo, perché? Perché gran parte del pubblico di YouTube, è un pubblico di ragazzini, cioè di ragazzi, parliamo di teenager, e questa che numero era, la 112, di teenager, e quindi, insomma, va in un settore molto fertile, è simpatico, ha avuto un qualcosa in più, che altri non hanno avuto, indubbiamente, e quindi ha stracciato tutti quanti. Bene, abbiamo attaccato le figurine, abbiamo fatto i complimenti, analizzando così, brevemente, il fenomeno Favij, complimenti, quindi per chi non l'avesse ancora, non l'avesse mai visto, Favij è il numero uno, possiamo dire, con Favij TV, nel canale, è il numero uno di YouTube Italia, è uno dei più forti al mondo, quindi, è un ragazzino, che si è fatto ormai un presente, un futuro, sicuramente, e mi ha colpito questo fatto, che ha addirittura, anche l'album delle figurine, pensate, pensate che grande successo. Ciao a tutti, e viva Favij, ciao Favi.